Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Se è proprio vero che l'outfit riflette esattamente il nostro umore, allora oggi sono proprio in palette perché sono davvero molto molto entusiasta. Sto facendo la valigia, devo partire, vado verso una meta leggermente più fredda rispetto al clima che abbiamo qui in Italia e sono davvero entusiasta perché prenderò un volo finalmente dopo due anni, quasi più di due anni, perché l'ultimo l'ho preso ad agosto del 2019 per andare in Spagna tra Minorca e Mallorca e quindi sono davvero entusiasta perché mi mancava volare e tra l'altro il fatto di prendere un volo mi sono resa conto che non è la stessa cosa che fare le valigie per partire in macchina e devo dire che avevo un po' perso l'abitudine, però non è stato molto difficile ritrovarla anche perché sono una persona che ama davvero tantissimo fare le valigie e organizzarle al meglio è una cosa che mi appassiona moltissimo, per cui voglio condividere con voi tutto quello che sto mettendo in valigia perché ho già organizzato tutto intorno a me, ho fatto i miei ragionamenti e devo dire che stavolta mi sto comportando meglio rispetto al passato sono riuscita a mettermi qui da parte tutte le cose che devo portare e stavolta non sono troppe perché sono stata lì proprio a riflettere, pensare bene a cosa avrei voluto indossare e siccome parto per otto giorni compresi il giorno di andata e quello di ritorno ho proprio pensato esattamente a quali outfit avrei voluto indossare quali sono le mie cose preferite che non vorrei mai lasciare qui e che voglio assolutamente avere con me e ovviamente ho messo insieme proprio gli outfit che indosserò e se poi magari non indosserò proprio gli stessi che ho pensato oggi finirò per combinare le cose tra di loro per crearne degli altri perché comunque sono tutte cose che possono andare insieme e senza perderci troppo in chiacchiere passo subito alle cose che sto per mettere in valigia vi faccio vedere tutto quanto vi anticipo che comunque ho abbastanza spazio perché ho una valigia grande e una piccola ma la valigia grande non è tutta per cose mie devo metterci anche altre cose che però non vi posso svelare perché non voglio svelare la destinazione verso la quale mi sto dirigendo perché sono troppo entusiasta e voglio fare una sorpresa anche a voi anche perché è un posto in cui non ci torno da tre anni e sono davvero felicissima intanto vi faccio vedere cosa sta succedendo in camera ho messo già sul letto delle cose che devo portarmi via devo mettere queste cose via che sono tutti i vestiti le valigie e l'outerwear quindi cappotti, giubbotti e scarpe quindi tutte le cose o quasi tutte perché mancano solo pochi pezzi sono qui in camera e stavolta mi sto davvero stupendo di me stessa perché sono davvero stata bravissima mi sono portata poche cose ma tutte ben pensate perché si possono abbinare benissimo tra di loro e quindi passiamo in rassegna tutto quanto abbiamo pantaloni due paio di jeans uno un po' più chiaro uno un po' più scuro un paio di pantaloni color pietra sono i miei pantaloni di Zara che ho acquistato di recente e sono i pantaloni più comodi all'interno del mio armadio ovviamente tutto quello che posso linkare lo linkerò qua sotto nella descrizione così che possiate trovare tutto con molta facilità poi abbiamo tanta lana gilet, maglioncini, cardigan neri, rossi, blu di tutti i colori che piacciono a me in questo momento qualche top però è organizzato tutto proprio per outfit e sono tutte le mie cose preferite poi qui sotto abbiamo un outfit un pochino più femminile una gonnellina abbinata al mio gilet preferito e un maglioncino in lana e seta penso di averlo comprato da intimissimi questo invece è di Zara ed è una gonna di qualche stagione fa questo invece l'ho comprato di recente da Mango e questi invece sono un paio di calze marroni di Calzedonia quindi l'outfit è già completo così questa è una gonna di seta di cos che mi sto portando perché forse dovrò indossarla per un'occasione molto speciale però vedremo non sono ancora convintissima se la indosserò però in ogni caso me la porto anche perché non occupa molto spazio e quindi non è un problema infilarla in valigia poi qui abbiamo delle cose che userò per stare comoda in casa questo è il maglioncino che indosserò insieme a quei pantaloni proprio martedì il giorno della partenza e poi queste invece a queste altre due cosine sono dei pezzi in più che non compongono degli outfit che ho già creato qui ma le porto just in case perché sono cose che comunque amo tantissimo e possono andare bene insieme a tutte le altre cose che sto portando poi qui c'è la mia piastra la GHD Platinum quella in versione limitata per San Valentino e poi qui abbiamo i miei beauty questa è la sacca per il pigiama ma tornando ai beauty abbiamo tutti i prodotti che uso per struccarmi l'acqua micellare che per me è una cosa alla quale non posso rinunciare queste in realtà non le uso per struccarmi se non proprio in emergenza però mi piacciono davvero tantissimo perché hanno un profumo davvero buonissimo però le uso un po' come salviettina umide per qualsiasi cosa anche per pulire il cellulare poi ovviamente il detergente intimo il mio struccante preferito e poi vabbè altre salviettine umide intime la crema preferita in questo periodo l'ho scoperta da poco l'aven fluido opacizzante ma è davvero una super scoperta perché faccio davvero fatica a trovare una crema che vada bene per il mio tipo di viso perché io ho la pelle mista ma è molto sensibile e molto molto capricciosa e quindi spesso le creme mi danno fastidio mi creano queste cistine sulla pelle perché non li posso chiamare brufoli quindi quando compro una crema che soffoca la mia pelle mi succede questo e purtroppo mi è successo con la Bionicke Defense XH Prime l'ho presa come prima crema anti rughe per prevenire le rughe però non mi sta facendo bene le creme quando soffocano la mia pelle le sento subito perché nel momento in cui le applico sul viso mi sento proprio come una sorta di calore è come se avessi messo una sorta di pellicola sul viso per cui sento questa sensazione di sconforto e con questa qua della Bionicke l'ho provata diversi giorni perché non mi sembrava tanto così soffocante sentivo questa leggera sensazione per poi scoprire dopo giorni che mi sono riempita un po' di brufoli e mi dispiace davvero tantissimo perché Bionicke è un marchio che mi piace davvero tanto e uso di solito un altro fluido una crema molto leggera che vi ho già fatto vedere ma che in questo momento non ho perché l'ho finita e la uso la notte come crema idratante proprio per andare a dormire e quella mi fa davvero benissimo e tornerò a comprare quella lì anche se mi sarebbe piaciuto iniziare a usare delle creme un pochino più anti-age però mi tocca continuare con le creme solo idratanti o per pelli miste fino a quando poi non troverò quella giusta per me per cui se conoscete dei marchi o delle creme che vanno bene per le pelli come la mia quindi miste ma molto sensibili per favore fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché vi sono davvero grata tornando ai prodotti che mi sto portando abbiamo lo shampoo secco in versione mini questo l'ho preso per provarlo ma è davvero un salvavita mi piace tantissimo un profumo buonissimo poi c'è lo spazzolino il latte struccante sempre di aven mi sta piacendo tantissimo in questo periodo è un marchio che amo tanto e poi abbiamo il mio dentifricio preferito della Helmex il deodorante Vichy questo davvero lo uso da anni e lo amo poi ho preso delle maschere questi sono i Nourishing Eye Potch per la zona sotto gli occhi delle maschere questa in carbone purificante e idratante antifatica di Kiko e idratante di Kiko questa invece è indica la mia poi il mio profumo mini Flower Bomb di Victor & Rolf inseparabile ormai da diversi anni qui abbiamo lo shampoo e il bansamo di recente ho iniziato a utilizzare il marchio Cloran mi sta piacendo davvero tantissimo i miei capelli stanno cominciando a stare davvero bene ci stanno riprendendo non sono più così crespi e da quando li ho tagliati non uso più tanto la piastra se non qualche volta per farli ondulati ma cerco proprio di non utilizzarla le prime settimane è stata un po' dura perché avevo tutti sparati sembrava che avessi messo le dita nella presa e ho iniziato a utilizzare anche uno shampoo un pochino più di qualità prima ho utilizzato il Biopoint non male però comunque le lasciava molto crespi mentre con Cloran mi sto trovando davvero benissimo ho provato quello per capelli grassi quello anticaduta e sono davvero tutte e due ottimi questo non l'ho ancora provato per capelli normali a tendenza grassa lo proverò ma credo proprio che non mi deruderà non so perché però sono quasi convinta perché dopo aver provato gli altri due più lo shampoo secco mi sento di dire che è un ottimo prodotto qui abbiamo la crema per gli occhi questo è il secondo barattolino che acquisto l'ho scoperto per caso al supermercato l'ho comprato all'essia lunga e mi sta piacendo davvero tantissimo rispetto a tanti altri che ho provato questa crema è davvero ottima per il contorno occhi molto sensibile come il mio che si irrita molto facilmente questo non l'ho mai provato però ho provato altre creme di Eucerin e mi sono piaciute tanto avevo comprato prima il trattamento quello per la pelle con imperfezioni mentre questo è un dermo purifier oil control quindi fluido opacizzante per la pelle e l'ho comprato sostanzialmente perché questo non sono riuscita a trovarlo e giusto per non rimanere senza crema in viaggio ho preferito comprarne comunque uno di un marchio che mi piace e che so che non mi fa un effetto strano sulla pelle qui dentro invece abbiamo i trucchi non ne ho portati tantissimi abbiamo una palette di blush in questo momento utilizzo quasi sempre solo uno di questi sei ed è questo qua che in video sembra molto più rosso però in realtà è un rosa adatto alla mia carnagione non saprei come definirlo però è un'ottima palette questa è di Douglas e mi sto trovando davvero benissimo mi è stata regalata però devo dire che è un ottimo regalo perché mi mancavano i blush e questa è davvero perfetta poi abbiamo tutte le mie spazzole la cipria la terra il fondotinta mascara due rossetti poi abbiamo la matita per gli occhi la matita per le sopracciglia questa è quella per gli occhi uso quasi sempre solo questa ed è il intense color long lasting eyeliner il 03 e poi questa è la matita per gli occhi rimmel la 002 hazel poi abbiamo due smalti tra l'altro questo lo devo mettere sulle unghie quindi me lo porterò anche via giusto per emergenze se poi mi si rovina l'ombretto che al momento è l'unico ombretto che possiedo perché le ho buttate tutti gli altri questo è il high pigment eyeshadow 34 e l'ho comprato da Kiko ed è quello che sto indossando ora mi sta piacendo davvero tantissimo è perfetto poi abbiamo un mascara nuovo ed è il mio preferito quello di Kiko il luxurious lashes il temperino per le matite e giusto qualche elastico perché questi servono sempre si perdono scompaiono con una facilità impressionante abbiamo finito con la sezione beauty non vi ho fatto vedere la sezione outerwear e qui abbiamo un piumino molto leggero e lo sto portando da indossare sia da solo che insieme al cappotto giusto per uno strato di calore in più non si sa mai se poi fa davvero freddo devo essere preparata per il grande freddo per cui questo sarà davvero un salvavita a livello di scarpe abbiamo gli anfibi e le mie adidas campus queste sono le mie scarpe preferite però sono anche le più strategiche perché vanno bene con tutti gli outfit che mi sto portando e sono proprio adatte queste per un clima molto mite stolleggiato e non umido mentre gli stivali sono ottimi per quando piove poi abbiamo due borsette una beige quella di Zara la solita la conoscete ormai benissimo poi questa qua che è una borsa di furla è un pezzo che davvero rende ogni outfit molto molto speciale poi abbiamo lo zaino dove ci andrà il computer e le cose che mi serviranno a bordo in aereo la valigia grande dove ci andranno le cose che è più difficile portare in aereo poi nella valigia piccola invece ci andranno tutti quelli outfit e quelle cose che non devono e non possono perdersi per cui devono stare con me al sicuro mentre le cosine di cui proprio non mi importa tantissimo o che comunque se si perdono non è un grosso problema andranno nel bagaglio da stiva bene direi che è tutto non so come ho fatto parlare così tanto però a quanto pare si può parlare tanto anche di una semplice valigia spero davvero di avervi dato qualche spunto utile qualche idea o perché no di avervi anche solo rinfrescato le idee su come si fa la valigia per partire in aereo io chiudo questo video qui ci vediamo nel prossimo che sarà il video nel quale vedrete dove sto andando che cosa farò e come passerò il tempo per cui non mancate è tutto per oggi grazie di essere passati di qui anche questo venerdì ci vediamo il prossimo alle due come sempre ma fino ad allora vi mando un mega abbraccio gigantesco e alla prossima ciao